In questo intervento ho avuto il piacere di descrivere i contenuti dei cammini di lizia che sono stati di recente revisionati con il decreto dell'11 ottobre del 2017. In particolar modo abbiamo fatto un focus su quelle che sono le specifiche tecniche dei componenti dei lizi parlando nello specifico dei laterizi e richiamando due certificazioni fondamentali ovvero la certificazione EPD, la certificazione Remedy Italy e un atto di carazione ambientale ai sensi ISO 14021. Questi sono i criteri di verifica che si trovano sostanzialmente nei cammini di lizia per diversi componenti di lizi per la maggior parte di questi.